Gli italiani, i nostri amici hanno fatto per le bambini che abitano in questa casa sull'Elisa. Un regalo di Natale che sarà in uso per tutto l'anno di 2013. Voglio ringraziare la PINA, i bambini d'Italia per l'aiuto e per tutta la felicità che hanno dato per i bambini e anche per noi che lavoriamo in Grecia in momenti troppo difficili. Gli soldi che hanno portato, che sono più i soldi che abbiamo pensato all'inizio di questo programma, di questo progetto, che usano non solo per fare le cose psicologiche e altre lecure che hanno bisogno i nostri bambini, ma anche per fare cose di più, perché c'è una nuova casa che costruiamo adesso per i bambini, un numero più grande di bambini, di più, aumentare il numero di bambini che accoglierete. Facciamo un playground, un giardino di gioco, un parco gioco, per giocare ai bambini e siano più felici. Anche magari una gita, un po' di... fare una gita tutti insieme, no? Sì, sì, però... Una vacata e stare vicino alle famiglie che hanno bisogno, che in questo momento ci sono sempre più famiglie che hanno bisogno. Hanno molte famiglie di più che hanno bisogno non solo di aiuto, ma anche di una mano di amicizia. Sì, 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 sì. Per noi vogliamo ringraziare molto, moltissimo per tutto l'aiuto dei nostri amici italiani, la PIN, il SOS Italia, per tutto. Ti ringrazio. Grazie a voi di esserci e sapere che c'è Casa Elisa per noi è una sicurezza. Siamo molto concerti di aver potuto intervenire e darvi una mano. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie.